Di vieto di somministrazione di bevande in genere si è da asporto nei giorni del 3 e 5 marzo. Da ieri, 19 febbraio fino al 5 marzo, è vietata la vendita e l'utilizzo di oggetti atti ad offendere e arricare offeso molestia alle persone e danno a cose. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, in occasione del Carnevale 2019, ha firmato apposita ordinanza per la salvaguardia della sicurezza urbana e per la pubblica incolumità. Nell'ore pomeridiane del 3 e 5 marzo 2019 è vietata la somministrazione, vendita e consumo di superalcolici, nonché la vendita per asporto di bevande analcoliche o alcoliche di qualsiasi gradazione. Tali prodotti potranno essere consumati solo all'interno degli esercizi commerciali, di laboratori artigianali e simili. Fino a tutto il 5 marzo 2019, invece, il vieto riguarda per lo più azioni che possano arricare danno o turbativa. Queste le principali prescrizioni. Di vieto di gettare il luogo pubblico, lanciare o spruzzare persone o cose, siano esse di proprietà privata o destinate ad uso pubblico, oggetti, sostanze imbrattanti o liquidi di qualsiasi genere, quali ad esempio schiume, coloranti vari, palloncini pieni di acqua, farina e uova. In ambito urbano, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, è fatto di vieto di usare petardi, cartucce o altri artifici che possono arricare offeso o molestia alle persone o agli animali, ovvero danni a cose, nei luoghi dove si svolgono pubblici festeggiamenti o manifestazioni carnivalesche e nelle pubbliche vie, è vietato portare pistola d'acqua o qualsiasi altro oggetto contenente ed atto a spruzzare liquidi e qualsiasi altro oggetto idoneo ad arricare offeso o molestia alle persone o danno a cose. È vietata infine la vendita di bombolette spray contenenti schiuma, artifici pirotecnici, randelli in plastica ed oggetti simili. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 25 a 500 euro.